La poesia della natura, la natura della poesia. Questo è il titolo della Kermesse culturale organizzata dall'associazione Restart che ha coinvolto gli studenti dell'istituto comprensivo Don Milani di Tusa. Per noi Giuseppe Cuba. Si è svolta martedì 20 dicembre la Kermesse culturale ideata ed organizzata dall'associazione Restart APS presieduta dal dottor Vittorio Alfieri presso l'istituto comprensivo Don Lorenzo Milani di Tusa, diretto dalla professoressa Domenica Pipitò. Il tema dell'evento, volto a valorizzare il patrimonio culturale e naturale nel broideo, è stato La poesia della natura, la natura della poesia ed ha visto come protagonisti principali Antonella Barina e Rino Scurria che si sono alternati in un dialogo poetico che ha toccato svariate tematiche molto sentite nel nostro comprensorio, dal rapporto uomo-natura all'importanza degli affetti familiari nella crescita personale, dalla mancanza di lavoro al fenomeno dell'immigrazione, dall'uso del dialetto alla difesa delle tradizioni popolari. Antonella Barina, veneziana da parte del padre e mistrettese da parte della madre, per circa 40 anni ha svolto la professione di giornalista, di cui per circa 30 anni del lanza. Ha collaborato con decine di testate nazionali, ha scritto molteplici opere letterarie che spaziano dal romanzo al testo teatrale, ha pubblicato in proprio gran parte dei suoi componimenti, ha ideato e animato in numerevoli eventi culturali finalizzati alla valorizzazione di arte autori e autrici, creando l'edizione dell'autrice, mirabile esempio di auto-editoria. Rino Scurria, poeta, scrittore ed autore teatrale, da orte 30 anni porta sui parchi delle piazze e tra i banchi delle scuole siciliane componimenti in prosa o in poesia, che tengono alto il nome della Sicilia anche presso l'AMPOSDI, associazione nazionale dei poeti e degli scrittori dialettali. Nel 2015 ha pubblicato la raccolta delle sue poesie intitolata Versi diversi. I ragazzi delle classi prima, seconda e terza dell'Istituto Comprensivo sotto l'amorevole e solida guida della professoressa Antonietta Zito e di tutto il corpo docente hanno dimostrato una predisposizione all'ascorto ed una partecipazione attiva fuori dal comune, riservando agli ospiti affettuose parole di benvenuto, la declamazione di poesie e preghiere, saggi di recitazione, canti, balli per un vero e proprio giorno di festa, all'insegna dell'amicizia, della cultura e della solidarietà. Molto soddisfatto è parso il deus ex machina dell'iniziativa, il signor Vincenzo Sambataro, che da decenni è testimonial delle eccellenze naturali dei Nebrodi e non solo, che ha anche voluto omaggiare la poeta, così ama definirsi lei stessa, Antonella Barina, con un piatto di ceramica raffigurante un'austera palma che svetta sui panorami del castello di Mistretta da un lato e delle rovine di Alesa Arconidea dall'altro, mirabilmente realizzato dai maestri ceramisti stefanesi, Totocciardo e Stefano Rondinella. La giornata si è conclusa con la piantumazione in una dell'aiuole del giardino della scuola di Due Palme, che il presidente dell'associazione culturale Restart APS, dottor Vittorio Alfieri, ha voluto idealmente consegnare alle future generazioni tusane, con l'auspicio che esse ne prendano cura. Consce della simbologia che da millenni questa pianta rappresenta presso diversi popoli in termini di regalità, vittoria, longevità, bellezza, solidità e rettitudine. Grazie.